Per la Roma è importante recuperare, avere come dicevo prima, ordine in campo, cosa che è mancata finora a Spalletti, soprattutto per i tanti infortuni che ci sono stati. Anche ieri in allenamento c'è stato quello di Pizarro che doveva debuttare, doveva giocare in questa partita e invece non ce la farà. Si è fatto male una distorsione alla caviglia per lui, è stato recuperato invece Doni.